Centro scommesso e devastato dai ladri nella notte in città, 27 slot machine prese ammazzate, bottino 20.000 euro. Processo ex tricom galvanica PM, in sede civile e la corte d'appello conferma la condanna ma riduce i risarcimenti. L'Axonobel di Romano chiuderà il primo aprile, i lavoratori proposto il ricollocamento ma la soluzione non piace. Asiago verso le elezioni, il sindaco uscente Joss lancia la candidatura del vice Rigoni. L'hockey cittadino in difficoltà, pronti 350.000 euro per il pala Bassano ma per l'assessore Fabris due società sono troppe. Buonasera e ben ritrovati con il nostro appuntamento di Bassano Notizie. Apriamo il nostro TG di questa sera con la cronaca. Hanno preso ammazzate 27 slot machine per un bottino di 20.000 euro. I ladri vandali sono entrati in azione in un centro scommesse di Viale Vicenza. Capiamone di più nel nostro primo servizio. Un'incursione notturna sotto il segno della violenza. Un furto da 20.000 euro con i malviventi che hanno distrutto 27 slot machine a colpi di spranga. È stata una sorpresa amara quella che i gestori del centro Sisal di Viale Vicenza, Mercur, Win di Nerio Vanzetto hanno trovato questa mattina all'apertura. Vetri ovunque, segni di infrazione e sul pavimento diverse impronte di fango. I ladri infatti, arrivati dopo le tre, si sono osserviti del piazzale laterale per entrare e uscire dalla sala giochi per non dare così troppo nell'occhio. Dopo aver infranto una finestra, si sono introdotti nel locale per scatenarsi senza scrupoli. E se in un primo momento l'antifurto ha suonato, la telefonata dei gestori collegata all'impianto di allarme non è mai arrivata, visto che i ladri hanno reciso i fili del telefono. Oltre ad aver manomesso le telecamere di sorveglianza, hanno rubato il router di Sky e Internet dall'ufficio. Ma il peggio è avvenuto nella sala gaming, dove con l'uso di una violenza che assomiglia agli atti di vandalismo, la banda è riuscita ad aprire la cassaforte e a portare via le monetine di slot e macchinette VLT. Un bottino ingente del valore di 20.000 euro, senza contare i danni subiti dal centro scommesse, fortunatamente assicurato. A stupirsi della spegiudicatezza degli autori del furto, persino la polizia del commissariato, giunta sul posto per i rilievi assieme alla scientifica. L'infinita vicenda giudiziaria dell'ex Tricom Galvanica PM. Ieri la sentenza d'appello del procedimento civile per la morte di uno degli operai, vittima del cromo esavalente. Ridotti risarcimento ai familiari, ma la condanna rimane. Risarcimento ridotto, ma condanna confermata in secondo grado anche in sede civile. Domenico Bonan, per 20 anni addetto al reparto cromatura della Tricom di Tezze, morì di carcinoma polmonare perché è esposto ai veleni della fabbrica in un ambiente degradato e privo dei necessari requisiti di sicurezza. 800.000 euro, la cifra dovuta agli eredi, in base alla sentenza emessa nel 2009 da Monica Attanasio, giudice del lavoro del Tribunale di Bassano. Importo ora rideterminato in 631.000 euro dalla Corte d'Appello di Venezia, che si è pronunciata ieri sul ricorso di uno degli imputati, Adriano Sgarbossa, ex amministratore unico della Tricom. I familiari delle vittime del cromo la salutano comunque come un'altra vittoria, dopo che il processo penale si è chiuso sette mesi fa in Cassazione con tre condanne per omicidio colposo. La vedova e i figli di Domenico Bonan finora non hanno visto un euro, ma non è per i soldi che si battono. Io penso che il dato fondante della sentenza è che comunque siano state riconosciute le responsabilità dei dirigenti della Tricom Galvandica PM. Poi per motivi tariffari siano state diminuite appunto i risarcimenti, questa è un'altra questione alla quale sinceramente a me non interessa. Tocca anche Bassano l'inchiesta della procura di Bolzano su un giro di false certificazioni utili al rilascio di integrazioni pensionistiche per esposizione all'amianto. Migliaia delle pratiche irregolari scoperte tra Latina, Velletri, Bolzano, Venezia e appunto Bassano. Coinvolti tre avvocati e un sindacalista accusati di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Ancora tutto da quantificare e l'ammontare degli illeciti. Con il prossimo servizio andiamo a Romano. Sindacati e lavoratori dell'Axonobel oggi pomeriggio a confronto per vagliare le opzioni proposte dalla proprietà dell'azienda che ha deciso di chiudere il primo aprile. L'Axonobel di Felletta di De Romano ha deciso chiuderà i battenti il primo aprile. Un brutto pesce d'aprile per i 112 dipendenti che potrebbero perdere il lavoro. Per far sì che questo non accada nell'Assemblea che oggi ha fatto incontrare i sindacati con le proposte aziendali e i lavoratori si è parlato di ricollocamento. Nella sede di Como ad esempio dove ci sarebbero 56 posti ma i problemi non mancano. Noi essendo abituati a lavorare su tre turni per andare a Como lavorare 7 su 7 vuol dire la famiglia non vederla mai. Vuol dire prendere bagagli e tutto quanto andare là e vivere là. L'azienda da parte sua ha offerto un pacchetto lavoro troppo basso per aiutare chi andrà in mobilità. Una proposta rifiutata completamente sia dai lavoratori che dai sindacati che vanno incontro a due mesi di contrattazioni serrate. Se ci sarà qualcosa di nuovo noi siamo pronti a discutere però deve essere una trattativa su una base credibile, su una base che abbia un senso e che sia dignitosa e che sia rispettosa la dignità ai lavoratori. Il 13 febbraio la questione Axio Nobel ritornerà per la terza volta al vaglio del Ministero per lo sviluppo economico anche se la soluzione migliore sarebbe riuscire a vendere. Questo perché darebbe garanzia occupazionale e non solo per i lavoratori di Axio oggi ma significerebbe anche mantenere un'attività produttiva nel territorio, cosa di cui abbiamo estremamente bisogno. Oggi per i pendolari bassanesi è stata l'ennesima giornata di pesanti ritardi ferroviari. Dalle 6.50 alle 8.40 sulla linea Padova-Bassano si sono verificati disagi dovuti ad un guasto che ha interessato una serie di passaggi a livello tra le stazioni di Cittadella e Campo San Piero. 6 treni regionali coinvolti che hanno registrato ritardi fino a 45 minuti. Ci hanno pensato le squadre tecniche di rete ferroviaria italiana a riparare e riattivare le normali condizioni di circolazione. Dopo un anno di lavori per il restauro della facciata la chiesa di San Giovanni torna a nuova vita. Sono iniziate infatti le operazioni di smontaggio delle impalcature. Vediamo. Spuntano i primi angoli della facciata di San Giovanni. Si intravedono attraverso i primi teloni sollevati, come un pacco di Natale da scartare in ritardo o come lo sbocciare di un fiore in anticipo. La speranza di poter ammirare la facciata nella sua completezza ed interamente restaurata era sfumata sotto le festività natalizie, quando si erano resi necessari altri lavoretti. Ad esempio la posa di reti antipiccioni su finestre e anfratti o la sistemazione dei coppi della copertura dell'altare laterale, da dove si infiltrava l'acqua. Ma ora, dopo un anno di impalcature e mani esperte in grado di far rivivere la storia del tempio, San Giovanni torna al suo splendore. L'impatto di insieme che darà un nuovo respiro alla piazza sarà visibile solo i primi di febbraio, considerato che sono necessarie tre settimane per lo smontaggio di impalcature e protezioni. I lavori sono stati eseguiti a regola d'arte trattandosi di un edificio datato e di pregio, spiega il portavoce del comitato nominato per seguire l'opera Stefano Ceccato. Per fortuna avevamo messo da parte qualche migliaia di euro per gli imprevisti, aggiunge, che si sono rivelate utili con questo slittamento della chiusura dei lavori. 356 mila euro il costo dell'operazione, ma all'orizzonte ne mancano ancora 150 mila, una somma che il comitato sta cercando di raccimolare grazie anche ad un contributo ministeriale dell'8x1000. Si terranno con ogni probabilità il 9 marzo le primarie del centro-sinistra bassanese per disegnare il candidato sindaco, con ballottaggio la domenica successiva se nessuno raggiungerà subito il 50% delle preferenze. Urne aperte come sempre in sala Tolio e in sala Angarano. Esultano i giovani del PD che in una nota esprimono entusiasmo e orgoglio per la notizia, è un importante passo, rimarcano, per il rinnovo della classe dirigente. Ad Asiago invece un candidato in pista c'è già il nome, lo ha svelato il sindaco uscente Andrea Gios, ieri sera qui alla nostra TV. A quattro mesi dalle elezioni comunali, Asiago può dire di conoscere già il primo candidato sindaco. Durante la puntata di ieri sera del nostro settimanale di approfondimento sul ponte di Bassano, il primo cittadino uscente Andrea Gios, obbligato a farsi da parte dopo due mandati, ha indicato esplicitamente il suo possibile erede. Il nostro gruppo si riproporrà certamente, noi abbiamo già individuato in Roberto Rigoni che è il nostro vice sindaco, la persona che molto probabilmente si presenterà. Rigoni, avvocato, attualmente anche presidente del consorzio turistico Asiago Sette Comuni, vanta 15 anni di esperienza amministrativa, 5 come capogruppo di opposizione e 10 da assessore, oggi con deleghe a turismo, cultura e istruzione. Il diretto interessato, preso in contropiede dalla precoce investitura, non conferma ufficialmente ma sa che il dado è tratto. Una continuità va garantita, spiega, per portare avanti le progettualità avviate e le battaglie a tutela del territorio che hanno aperto molti contenziosi giudiziari. Sul nome di Rigoni potrebbe aprirsi un dialogo con l'attuale minoranza, ancora indecisa sul da farsi, mentre fra gli ipotetici avversari spunta il commercialista Alessandro Gatti, che già nel 2009 lavorò a una lista poi non presentata. Gios, dal canto suo, non pensa per ora a ritagliarsi nuovi ruoli. Dio che sia giusto che chi governi abbia la possibilità di interpretare in modo completamente scevro da legami con il passato il ruolo importantissimo che ricopre. Restiamo in alto piano. Si annuncia un incontro che promette scintille, quello in programma lunedì, dalle 18 alla sede della comunità montana di Asiago. Il vicepresidente della regione, Marino Zorzato, sarà il principale relatore del convegno dal titolo Piano Casa, atto terzo. Come è noto, proprio il sindaco di Asiago, Andrea Gios, guida da tempo una dura rivolta contro il piano regionale. E apriamo ora la nostra pagina dello sport. Dio Serie A senza un supporto del Comune per le spese del Palasport. Ha fatto molto rumore in città l'allarme lanciato dal presidente dell'Hockey Bassano ed è già pronta la risposta dell'amministrazione. Palasport, quanto mi costi? Tanto, troppo, al punto da far venire la tentazione di mollare tutto e per la gloriosa Bassano dell'Hockey sarebbe un addio alla Serie A colmo di recriminazioni. Il giorno dopo il clamoroso sfogo intercettato dal nostro Tg, il presidente giallorosso Pierluigi Pilati evita di calcare la mano. Il Comune ha promesso di venirci incontro, riferisce, prima di prendere una posizione ufficiale attendiamo di capire se alle parole seguiranno i fatti. Messaggio recepito dall'assessore allo sport Alessandro Fabris. Capisco le difficoltà che lamenta il presidente. Il bando di gara per la gestione parlava chiaro, ma gli introiti del palazzetto sono calati negli anni, riconosce Fabris, che enuncia l'unica ricetta in possesso dell'amministrazione. Sistemare una struttura effettivamente obsoleta per abbatterne i costi. E dopo i 40.000 euro già investiti per la messa in sicurezza, eccone pronti allora altri 350.000 per ammodernare l'impiantistica, con conseguenti risparmi sulle future bollette. La vera soluzione, secondo Fabris, è però un'altra, unire le forze. Due società hockeyistiche sono un lusso che la città ormai fatica a permettersi. Parlare di fusione tra hockey bassano e roller è ancora un tabù, ma condividere spazi, attrezzature e personale sarebbe la via maestra per ottimizzare le risorse e tagliare le spese. Sul fronte strettamente sportivo, il Bassano torna in pista domani sera alle 20.45. Al Parasport arriva il Sarzano, obiettivo dei giallorossi vincere per consolidare il terzo posto in classifica, utile a centrare l'ingresso nella Champions League. Proseguiamo con la nostra pagina sportiva, ma dopo la pubblicità. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale, videomedia S.P.A. Per la tua pubblicità, Publi Vicenza, divisione commerciale, videomedia S.P.A. Ben ritrovati in studio, parliamo di tennis. Brutta tegola per il Bassano, fresca campione d'Italia. Andrea Sesseppi, il primo artefice dello scudetto, nonché azzurro di Coppa Davis, ha lasciato il club giallorosso firmando per Genova che punta al titolo. Il sodalizio di via Colfagheron a questo punto costruirà una formazione di giovani. Ai prossimi giochi olimpici di Sochi in Russia ci saranno anche due asiaghesi e sono gli unici atleti vicentini in gara. Sono solamente due gli atleti vicentini inseriti nella lista della spedizione italiana ai giochi della 22esima Olimpiade Invernale in programma Sochi in Russia dal 7 al 23 febbraio. La rappresentativa azzurra sarà più scarna rispetto a quella di 4 anni fa a Vancouver come il numero dei rappresentanti della nostra provincia che ha raggiunto praticamente il minimo storico. A difendere i nostri colori saranno il 21enne Tommaso Leone nello snowboard, specialità cross asiagese di rinascita ma breganzese dell'adozione appartiene al gruppo sportivo dell'esercito ed è la sua prima partecipazione olimpica. Si è guadagnato il posto nazionale grazie alle ottime prestazioni in Coppa del Mondo. L'altra nostra rappresentante in Crimea sarà la 23enne patrinatrice Stefania Bertone a Zeghese di rinascita, ma da anni residente a Milano dove si allena in coppia con il naturezzato italiano Andrei Utarek. Parteciperà alla gara di pattinaggio figura a coppie con un biglietto da vista davvero notevole. Campionista italiana in carica ha vinto recentemente una prova del Grand Prix Mondiale in Canada e nei giorni scorsi si è classificata a quarta ad un soffio dal podio ai campionati europei di Budapest. Sia Leoni che la Bertone vengono considerati dagli addetti ai lavori come dei possibili outsider. Sognare è lecito. Per questa sera è tutto, io vi ringrazio per essere state con noi e vi do appuntamento alle nostre prossime edizioni e vi auguro ancora una buona serata. Grazie a tutti.